Il mondo fuori è così sporco, così malato. L'hanno distrutto. Oggi ho visto una donna. Aveva la pelle che le cadeva. Era senza occhie, era quasi senza mani. Io non lo so. Non lo so perché le donne vogliono continuare ad uscire. Forse è il diavolo che le tenta. Ma se sono tutti morti, noi siamo le ultime persone rimaste sulla terra. Ma me era buona, vero? È arrivata l'ora. È arrivata l'ora di andare via qui. Anche se la paura è giusto, così non capisco. Non c'è oggi nostra maniera. Non capisco quale sarà la strada. Dio non vuole le tue preghiere. Dio è buono. E tu sei la mia stella.